Il primo giorno che sono arrivato a Milano, pioveva, addirotto, faceva un nuovo fritto, un compaesano mi ha spitato nella sua cameretta, dormivavo nello stesso retto, uno da capo e uno da piedi. Facevamo i turni per tenere in ordine il bagno e il lavello. Nel bagno ci si entrava appena e dalla tazza veniva una puzza, ma una puzza che non vi dico. Ci abbiamo buttato chili e chili di detersivo, ma era come buttarli nel pozzo di San Patrizio. Pure per ammazzare l'esercito di Scarafaggi ci è voluta la mano di Dio. Una cosa che non mi piaceva appena arrivato a Milano era la nebbia. Non la proprio sopportavo, la nebbia non è una cosa buona. Arrugginisci i cervelli, io già ho un carattere malenconico, poco raneglia. Invece una cosa che mi piaceva erano i cartelloni pubblicitari, ce n'erano di tentatori. Rappresentavano certe donne alte due metri, stanche. Ma che razza, io non ho mai visto nella realtà così. Mia moglie, Letizia, anche se non è terrona perché è nata a Milano, ha le gambe corte e i fianchi sformati. Lei dice che sono state da gravidanza, ma che era tutta sformata pure prima della gravidanza. Sono 43 anni che vivo in questa città, ma sì, diciamo, di merda. E non mi sono mai abituato, ma proprio mai. Per questo mi sono costruito una bella casetta in Riva al Mare, in Calabria. Io appena me ne vado in pensione, mi piglio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, Rocco, Antonio, Alfredino, Carolina, Adelina, e me li porto a vivere in quella reggia. Allora, a mia moglie, a Letizia ancora non l'ho detto, devo trovare un momento per dirglielo, ma non sarà capace di opporso al mio progetto. Lei mi adora, mi seguirebbe in capo al mondo. Poi in Calabria ci siamo sempre andate a fare le ferie. No, viene, poi se non viene a cunghi i palati. Ma no, no, viene, viene. La Calabria la sente un po' come la sua seconda patria. Ci si è sempre trovata bene, conosce tutti quanti. Viene, viene pure Letizia a vivere in Calabria. Questa è la storia di un operaio calabrese che parte da giovane, a vent'anni dalla Calabria, se ne va a vivere a Milano, dove va a lavorare in una fabbrica, incontra e conosce una donna milanese con la quale ci fa famiglia e ci fa cinque figli. Lui però per tutta la vita pensa, lavorando, che quando se ne andrà in pensione prenderà la sua famiglia e se la porta a vivere in Calabria. E accade che il giorno di Pasqua, diciamo, dell'anno prima in cui deve andare in pensione, la famiglia radunata per il pranzo di Pasqua gli dice questa cosa. E ovviamente trova l'opposizione di tutta la famiglia, della moglie ma anche dei figli, che magari non sono proprio milanesi milanesi, ma sicuramente non sono calabresi. Da qui si dipana tutta la tragedia di questo spettacolo, Milano non esiste, tratto dall'omonimo romanzo di Dante Maffia, che è un candidato al premio Nobel, un grande poeta italiano, in scena qui al Teatro dei Servi, dal 14 ottobre al 2 novembre del 2014.